Dopo una lunga discussione sull'immigrazione, il Consiglio regionale ha approvato la mozione del Partito Democratico, con il capogruppo Vincenzo Ceccarelli come primo firmatario che impegna la Giunta regionale a manifestare la ferma contrarietà ad ogni ipotesi di centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio regionale. La mozione ha ricevuto 24 voti favorevoli da parte di PD, Movimento 5 Stelle e Italia Viva, mentre lega i Fratelli d'Italia hanno espresso 12 voti contrari. Oltre ad opporsi alla realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio in Toscana, l'atto impegna la Giunta a lavorare con il Governo per porre massima attenzione all'integrazione socio-economica dei migranti, anche in relazione alle esigenze produttive. Le mozioni presentate da Fratelli d'Italia riguardo all'adesione della Regione Toscana all'intesa nazionale sui migranti e da Lega sulla necessità di istituire un centro di permanenza per il rimpatrio in Toscana sono state invece respinte. Gli sbarchi sono più che raddoppiati in questo anno rispetto agli anni precedenti e il fenomeno viene affrontato con una gestione che ha poco dell'umano e che non coinvolge assolutamente i sindaci, le amministrazioni locali, le regioni, se non perché le problematiche gli ricadono addosso nel momento in cui questa gestione diretta dal Ministero alle Prefetture si riversa sui territori senza che gli amministratori locali siano preventivamente coinvolti. Credo che invece occorra affrontare il fenomeno in maniera strutturale con una visione complessiva, con umanità che è il primo requisito perché stiamo parlando comunque di persone umane che spesso scappano da luoghi che sono invivibili perché ci sono le guerre, perché c'è la carestia, perché comunque non c'è una prospettiva di vita per quanto riguarda soprattutto i minori che arrivano con gli sbarchi tenendo anche conto di quelle che sono le esigenze del mondo produttivo. Tutto questo deve coinvolgere quindi tutta la filiera istituzionale e non può essere trattato ad esempio con i CPR che si rivelano delle strutture che erano nate per essere strutture di accoglienza dove le persone potevano stare al massimo 30 giorni e che invece ora in base all'ultimo decreto possono accogliere questi migranti addirittura per 18 mesi. E dal dibattito che ne ha scaturito abbiamo anche compreso qual è la concezione che la destra ha dei CPR, cioè vale a dire un surrogato delle carceri, ma non è questo, cioè le persone che delinquono in Italia di qualsiasi nazionalità siano devono andare in carcere, ma chi non ha i requisiti e chi non ha commesso reati non può stare fino a 18 mesi in dei luoghi che si rivelano dei luoghi di detenzione spesso anche gestiti in qualche modo da personale che non è sufficientemente specializzato. Ecco perché noi abbiamo con questa mozione ribadito il nostro no alla realizzazione CPR in generale e in Toscana in particolare e abbiamo anche invitato la Giunta ad esprimere questa posizione, a continuare ad esprimere questa posizione nei confronti del Governo e a cercare invece assieme alle altre regioni con il Governo delle soluzioni che siano soluzioni integrate, che siano delle soluzioni che abbiano le caratteristiche dello strutturale e siamo anche preoccupati dal fatto che pare esista invece un piano del Governo per realizzare questi centri, uno anche in Toscana e per quello che leggiamo, perché ora di ufficiale non c'è nessuno e anche sindaci del centro-destra che dovrebbero vedere sorgere questi centri e loro territori si stanno ribellando e ribellando in maniera molto decisa e fra l'altro strutture che sembra abbiano proprio delle caratteristiche che più che strutture per l'accoglienza e per la permanenza somigliano a delle vere e proprie carceri. Non è questa la strada che possiamo seguire. Per noi è fondamentale fare un CPR in Toscana e non lo dice la Lega ma lo dicono anche i prefetti per un tema di sicurezza, perché è troppo facile sciacquarsi la bocca con la parola sicurezza, invocare il Ministro degli Interni per un aiuto, chiedere al Governo che intervenga. Anche oggi leggiamo che 30 sono i militari che arriveranno nei prossimi giorni solo a Firenze dopo una richiesta di aiuto direttamente al Ministro Piantedosi del Sindaco Nardella, però quando il Governo chiede Toscana facciamo un accordo, firmiamo un protocollo d'intesa come la maggioranza delle altre regioni per istituire un CPR, la risposta è no. La sicurezza parte e passa anche da un CPR. In Toscana il CPR lo faremo, in Toscana il CPR il Governo lo farà, lo farà naturalmente perché arriveremo anche ad un accordo con la Regione Toscana, a un accordo su dove il CPR nascerà, un accordo con i sindaci, un accordo con l'Anci, perché c'è bisogno di ridurre i tempi, c'è bisogno di ridurre i costi. Pensate a quante ore la nostra polizia, i nostri carabinieri trascorrono in macchina portando un singolo immigrato in un CPR che è molto distante dalla Toscana. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di più sicurezza, abbiamo bisogno di più militari, il Governo risponde sì ogni qualvolta la Regione o i sindaci senza distinzione di colore chiedono un contributo o un intervento da parte del Governo e questo deve essere reciproco. In un CPR non ci deve essere ideologia, non ci deve essere idee che si cerca di trasmettere ai propri cittadini dicendo che sono luoghi di disumanità perché così non è. Io mi chiedo, e ho chiesto anche alla sinistra poco fa in Consiglio regionale, ma quando la disumanità era nei centri di accoglienza, quando 70, 80 centri immigrati vivevano in 40 metri quadri, ecco in quel caso la sinistra non si indignava, non ci deve essere differenziazione di trattamento, non ci sono centri di accoglienza di serie A e centri di rimpatrio di serie B. L'umanità deve esserci sempre, ma deve esserci sempre anche la sicurezza e la tutela del cittadino in primis anche in Toscana. Non sarà sicuramente semplice trovare una collocazione per un centro di permanenza di rimpatrio, però credo che come è stato fatto anche nelle altre regioni, quando c'è una buona collaborazione istituzionale, quando c'è rispetto per tutti gli organi, dal governo alla regione, ai comuni, a tutti coloro che poi sederanno a quel tavolo, perché il governo non ha nessuna intenzione di venire ad imporsi in Toscana, di scegliere in maniera autonoma la collocazione. Sarà una contrattazione istituzionale, una contrattazione politica, come avviene per tutte le altre tematiche. In Toscana non si vogliono termovalorizzatori, non si volevano un'epoca inceneritori, non si voleva la base militare, in Toscana non si volevano tante cose, perché è facile politicamente dire sempre no senza trovare e provare a costruire delle soluzioni migliorative per la nostra regione. Quindi anche in questo caso, come negli altri casi, dove si è trovato un accordo, una condivisione, un'analisi territoriale, anche in questo caso ci sarà una massima collaborazione nell'apertura di un tavolo per trovare la miglior collocazione ma che metta veramente d'accordo tutti coloro che saranno gli attori principali in questa partita. Esiste un'emergenza che mi auguro tutti i contrari e favorevoli al CPR vogliano riconoscere, ovvero quella di allontanare dal nostro Paese chi entra in Italia per delinquere. Io mi auguro che al di là del dibattito sul CPR sì, CPR no, vi sia questa decisenza condivisa. Se una persona entra in Italia e compie un reato deve essere espulsa, per poterla espellere serve una struttura in cui metterla in attesa di espulsione, il CPR è questo. Io stamattina ho ascoltato in aula persone che parlavano di ragazzi da accogliere che vengono a farsi la seconda vita in Italia, che devono avere una seconda opportunità, ragazzi che sono arrivati e grazie alle strutture d'accoglienza hanno conseguito la patente di guida, tutto bello. Non stiamo parlando delle stesse persone, il CPR è una struttura che serve a contenere chi delinque, chi viene in Italia a cercare di prendersi la patente di guida è liberissimo di continuare a farlo, chi viene in Italia per spacciare cocaina al parco delle cascine no, io faccio un esempio, vado lungo ma permettetemi di farlo, io non sono mai stato un fan a prescindere del CPR, non ho mai pensato che il CPR risolvesse tutti i problemi, fosse la panacea di tutti i mali. La scorsa settimana a Firenze un signore ha preso a botte un anziano di 92 anni per strada in pieno giorno per rubargli l'orologio. questa persona due giorni prima aveva fatto la stessa identica cosa col priore di santo spirito. Se in Toscana avessimo avuto il CPR dopo il primo reato questo soggetto stava all'interno di un CPR, se stava all'interno di un CPR non pestava a sangue un 92enne per rubargli l'orologio, ecco perché siamo a favore del CPR, serve una struttura in cui se tu delinqui e non sei italiano stai all'interno e te ne torni appena posso nel tuo paese. Stavanti l'abbiamo sentito in aula dire ma soltanto il 56% dei clandestini provengono da paesi con i quali abbiamo accordi per poterli rimpatriare, l'altro 44% no. quindi se ne potessimo rimpatriare soltanto il 56% di chi compie reato sarebbe un dato negativo? Meglio tenersi tutti 100%? Intanto iniziamo a rimpatriare il 56% che delinqui arriva da paesi con cui esistono accordi bilaterali. Poi lavoriamo, il governo nazionale lo sta facendo per creare rapporti anche con i paesi da cui proviene l'altro 44%. Questa è la dimostrazione concreta del fallimento che il centro-destra sta facendo sulla questione che riguarda l'immigrazione. Ha fatto tutto l'opposto di quello che aveva promesso, i sbarchi sono aumentati, il tema dell'immigrazione sta travolgendo il nostro paese e non si stanno trovando delle risposte cogenti e puntuali per risolvere questa questione. Il modello che abbiamo in mente noi è quello dell'accoglienza diffusa, provare a diffondere sul territorio la forma di accoglienza ma bisogna anche limitare gli accessi e questa è una risposta che serve da parte del governo e questo sta mancando. Evidentemente non si può poi trovare la scorciatoia di andare a creare una sorta di lagare in Toscana da dove concentrare un numero indiscriminato di persone che vengono accolte, giustamente salvate nei mari, ma questa non è una risposta, serve fare un'azione di governo che sta mancando oggettivamente. Noi abbiamo partecipato al dibattito in aula che è stato un dibattito illuminante, anche evidenziato la diversità di visione proprio del mondo da parte del centro-destra e parte del centro-sinistra e ho tenuto a riportare la discussione anche sulle cause del fenomeno immigrazione perché da parte del centro-destra sembra molto semplice la soluzione, cioè si costruiscono CPR e si risolve il problema, si riportano tutti a casa loro e finisce qua. Ecco invece il problema nasce anche a livello europeo, non sono stati in grado nemmeno ora che sono al governo a far rivedere il trattato di Dublino che è così fortemente penalizzante per l'Italia, ma soprattutto non si affronta il problema umanitario. Ecco qui è stato palese l'adversità di differenze e di sensibilità fra la destra e il centro-sinistra. Io vorrei però evidenziare, come ho fatto anche in aula, che forse sottovalutare il sentimento di insicurezza e la percezione di pericolo e di paura che è nella popolazione da parte del centro-sinistra è un problema e soprattutto un grave errore perché è quello su cui il centro-destra ottiene sempre maggiori consensi. Quindi una soluzione va trovata e soprattutto va pubblicizzata, va affrontato il problema e proposto delle soluzioni che non sono sicuramente semplici, sono soluzioni complesse, se ne sta rendendo conto anche il centro-destra ed è evidente che la discussione di oggi cerca di ributtare la palla in tribuna cercando di trovare delle soluzioni a livello regionale e comunale, ma non è così. Da parte nostra, sì, la regione fa bene a ostacolare la costruzione di questi CPR perché noi siamo contro la detenzione amministrativa. Non si capisce per quale motivo una persona che non ha commesso nessun reato debba essere tenuta ferma due anni, fino a due anni in un centro dove non può uscire, dove viene privata delle proprie libertà personali in attesa di che cosa. Ecco, noi siamo fortemente contrari, crediamo che la reclusione delle persone debba avvenire solo dopo che qualcuno ha commesso un reato e sia stato giudicato da un tribunale. Il Consiglio regionale ha approvato con 22 voti favorevoli e 13 contrari una legge che riguarda la gestione delle risorse ittiche e la regolamentazione della pesca nelle acque interne. La legge prevede di dare il 15% delle acque interne in concessione alle associazioni di pescatori per l'attività di pesca dilettantistica. L'atto, presentato dal vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale Mario Puppa del Partito Democratico, nasce per garantire una miglior tutela della fauna ittica e promuovere l'attività alieutica. La concessione, ha spiegato Puppa, viene rilasciata gratuitamente per un periodo non superiore a 10 anni e mira a circoscrivere la sua applicazione esclusivamente all'attività di pesca sportiva. Inoltre, l'atto include disposizioni che specificano gli impegni del concessionario. La legge vigente già esaltava una grande collaborazione con le associazioni sportive di pesca dilettantistica. Noi abbiamo voluto fare un passo avanti proponendo la possibilità alle associazioni di poter avere in concessione dei tratti di torrenti o fiume per valorizzarli al meglio, attrezzandoli, facendo in modo che siano popolati da fauna autottona e anche diciamo in modo tale che diventino anche veri e propri punti di attrazione turistica. In questo modo cercheremo, attraverso un emendamento che è stato approvato in Commissione, che abbiamo concordato anche con le associazioni di pescatori, intanto delimitato il margine da un 100%, l'abbiamo portato al 15%, quindi i tratti in Toscana in via sperimentale saranno il 15% del totale, saranno diciamo così interessati da un bando che sarà gestito dagli uffici della giunta e che avrà un titolo gratuito ma impegnerà le associazioni dilettantistiche della pesca ad apportare diciamo attraverso un progetto vero e proprio di valorizzazione del valore aggiunto in questi tratti. Poi attraverso un altro emendamento che abbiamo inserito proprio all'interno della Commissione approvato in Consiglio abbiamo previsto la gratuità di alcuni soggetti rispetto al pagamento di un eventuale permesso aggiuntivo rispetto alla licenza della pesca e che sono i ragazzi sotto i 12 anni, i portatori di handicap e gli over 70. In questo modo vogliamo anche dare un segnale rispetto a una possibile maggiore fruizione di questi tratti di fiume da persone che hanno un pochino più di difficoltà nell'avere accesso ai permessi di pesca. La valutazione sulla legge sulla pesca credo che si possa tranquillamente sintetizzare con una parola, disastro. Credo che sia una legge fatta ad hoc per una promessa mantenuta dall'assessore Saccardi e dal presidente Gianni e non lo dico io, lo dicono delle loro dichiarazioni in una conferenza stampa di circa un anno fa dove dicevano promessa mantenuta ad una singola associazione. Tutte le associazioni, le altre associazioni di pesca sono indignate. È veramente una cosa impensabile che chi fa pesca, un'attività sportiva, una passione debba pagare il tesserino più debba pagare a un'associazione la possibilità di poter pescare in un tratto di fiume. Non è pensabile che si dica, come loro hanno provato a dire, i fiumi saranno così controllati e puliti perché non si parla di collocazione di un fiume intero ma di piccoli tratti. Quindi il fiume sarà comunque nelle altre parti non presi in considerazione dalle associazioni, sarà comunque tenuto male come purtroppo lo è, ne sono tutt'oggi tutti i fiumi della Toscana e quindi non si risolverà nel problema di rischio idrogeologico, non si riserveranno i problemi ambientali, quindi non ci possiamo attaccare a questo. Questa è meramente una promessa fatta a una singola associazione di diversi iscritti, ma credo che la politica non debba valersi soltanto sul consenso ma debba valersi del bene collettivo. Abbiamo votato contro, abbiamo presentato e provato a presentare anche in Commissione una serie di emendamenti che andassero in un'altra direzione. Purtroppo il Partito Democratico non ci ha voluto ascoltare, ma non ha voluto ascoltare nemmeno tutte le associazioni che hanno scritto lettere dure di critica su questa proposta di legge. Credo che questa proposta di legge non avrà un corso facile, non sarà facile individuare quel famoso 15% di tratti che verranno dati in concessione, non sarà facile capire quale sarà e come verranno assegnati a chi con quali criteri di valutazione, quindi credo che questa legge, per quanto mi riguarda, sarà morta sul nascere. Una promessa che hanno provato a mantenere ma che poi non avrà vita nel corso del tempo. Ci sono alcune associazioni nazionali che sono tendenzialmente favorevoli rispetto a questa proposta, altre più locali che invece temono una privatizzazione dei corsi d'acqua. Alla fine nel dubbio il PD ha presentato un emendamento che restringe al 15% il totale delle acque interne che si possono concedere in uso alle associazioni, ma non si è capito dove vengano individuate né con quali criteri, per cui può essere che in una provincia tutte le acque o la gran parte delle acque cadano in concessione e automaticamente tutte le altre no. Quindi avevamo posto a queste altre questioni anche legate per esempio alle necessità di iscriversi ad un'associazione per andare a esercitare la pesca, magari un'associazione che esprime indirizzi ideali che un soggetto non condivide, pertanto non abbiamo ritenuto diciamo di esprimere un voto perché ci sembrava doveroso tornare in commissione e chiarire questi punti, perché l'esercizio della pesca è regolamentato ad oggi per legge, si può anche capire la volontà di migliorare, perché poi c'è un problema di fauna ittica e di conservazione del patrimonio ambientale e autoctono rispetto a specie che vengono dall'esterno, ma naturalmente questo va fatto rispettando i diritti di tutti. A noi non ci è sembrato che questa legge fosse ancora sufficientemente sviluppata per farlo e quindi abbiamo ritenuto di esprimere non voto e ci riserviamo naturalmente di valutare insieme alle associazioni ulteriori proposte di modifica. Una valutazione positiva che è uno scatto in avanti, una proposta, un impegno assunto e preso e mantenuto che consente alle associazioni di poter gestire dietro una concessione che appunto la Regione può concedere delle acque interne per un uso direttantistico della pesca, quindi le associazioni avranno una opportunità nuova dentro dei limiti previsti dalla normativa che consentirà loro di autodeterminarsi e soprattutto di svolgere un'attività controllata nel contempo diciamo dentro i limiti che appunto la stessa legge prevede, quindi una cosa positiva che non limita diciamo l'iniziativa singola ma che tutela anche le forme associative che a loro volta promuovono l'attività della pesca direttantistica.